Musica Dopo due importanti prestazioni contro la Lianese e Fiorenzola, la Marignanese Cattolica 1923 sfida in esterna all'alta neopromossa in Serie D, i Corticella. Lo scorso anno da queste parti gli ospiti riuscirono a ottenere i tre punti, la squadra di Lilli è intenzionata a regalarsi i primi tre in stagione e nel primo tempo la Marignanese Cattolica in maglia giallobru mette in difficoltà decisamente la retroguardia del Corticella che su questa discesa di go davvero incontenibile se la vede davvero brutta ma il numero 11 non riesce a colpire con Marchese i suoi che possono finalmente respirare. Il Corticella non rimane a guardare, il pallone indirizzato a Girotti viene raccolto dal numero 9 che chiama Piai al primo intervento del match, dalla bandierina sale Tonelli che non riesce ad impattare la sfera con Graziano dietro di lui che invece colpisce il cuoio non inquadrando lo specchio della porta. La Marignanese Cattolica reagisce nell'immediato, la discesa di Manuzzi comporta non poche recrimini, il direttore di gara Pileggia segna un calcio di punizione dal limite, il repre prova ad aiutarci. Dalla bandierina invece Marchesi che viene chiamato all'attenzione è pronto a sventare nuovamente in corner questo tiro a rientrare, i movimenti di go spiazzano la retroguardia di casa, l'asse con so crea scompiglio con il Corticella che si chiude in angolo. Dal conseguente corner, minuto 19, nasce il gol della Marignanese Cattolica, in area di rigore viene premiato l'inserimento di Gaiola che di testa carizza il pallone, quel tanto che basta, infilando la porta difesa da Marchese, gran gol per il capitano dei giallobru che merita il replay. Si chiudono qui le emozioni di prima frazione di gioco, ma se di emozioni si parla, il tiro è inizio di ripresa, cura dei negri, reca attenzione pure al popolo della Marignanese Cattolica, Pia in due tempi trattiene la sfera recuperando la propria posizione. Il duello tra i due si rinnova poco dopo, questa volta il portiere blocca a terra senza patemi. Dall'altra parte, quando So decide di portare palla tra i piedi, sono problemi per gli avversari, il suo diagonale si perde a lato. Il Corticella getta il cuore oltre l'ostacolo da questo lancio grazie a sfiorare di testa la marcatura. La squadra di Dalti preme sull'acceleratore, Girotti tenta l'effetto sorpresa con relativo e straordinario salvataggio di Nodari, che nell'occasione rimarrà con una scarpa impigliata dentro la rete, anche se i pilleggi decreterà la posizione di offside. Il Corticella, approfittando della stanchezza ospite, si rende pericoloso nuovamente con Pescatore, ma su fine di partita è Parlanti a procurarsi i penalti del pareggio. Anche in questo caso, il replay ci aiuta a capire meglio la dinamica dell'azione. Dal dischetto, grazie, spiazza Piai per 1-1. Lo scatenato Parlanti chiama l'intervento a terra Piai. Né finale, né so, né go, dall'altra parte trovano l'acuto vincente. Termina qui una gara che vede due squadre che lotteranno per la salvezza, ma che hanno mostrato trame di bel gioco, dividendosi un tempo per parte.